Come hai vissuto il pareggio di sabato scorso? Sicuramente a livello di prestazione della squadra posso essere contento perché comunque c'è stata la prestazione che secondo me è la cosa principale. Poi, ripeto, si poteva vincere la partita perché le occasioni le abbiamo avute e poi è andata così. Forse un po' di tempo fa l'avremmo perso, invece siamo riusciti a portare a casa un punto che muove un po' la classifica. Come lo giudichi questo punto arrivato a Lucca? Positivo per la prestazione perché abbiamo giocato sicuramente meglio nella partita con il tutto cuoio dove loro comunque giocavano per il pareggio. Invece domenica ci sono giocati alla grande creando molto, creando un bel gioco. Peccato per il punto in ogni tre. Domenica prossima ci sarà un'altra Toscana, riuscirà finalmente il Teramo a vincere? Vabbè, se vogliamo stare lì su bisogna vincere per forza sabato. È una partita importante dove bisogna ritrovare la vittoria, soprattutto in casa. Secondo indiscrezioni ci sarebbe un interesse da parte dell'Ascoli. Tu sarai fedele al Teramo, rimarrai fedele al Teramo? Io ho sentito tante voci in questo periodo, però ora come ora non mi interessa proprio. Io ho in mente solo il mio campionato con il Teramo, di fare bene, di dare l'anima in campo. E poi se la società vorrà prendere delle decisioni io sarò alle loro aspettative, ma io penso solo al Teramo. Tu personalmente non ti senti di voler fare una scelta eventualmente? Io a Teramo sto benissimo, i tifosi mi hanno accolto veramente a braccia aperte, ho un ottimo rapporto con tutta la squadra, con il mister, con Di Giuseppe, ho un ottimo rapporto con tutti, quindi non mi posso lamentare, io sto bene a Teramo.